salve a tutti simmers benvenuto canale io sono marichelle e oggi siamo in the sims 3 eccoci qui ragazzi con un nuovo personaggio o meglio è sempre morgan è sempre il personaggio che abbiamo usato in the sims 3 ma sarà una nuova serie quindi lei è completamente nuova quindi anche chi non ha seguito la serie prima non c'è nessun problema perché questa serie è assolutamente nuova nuovissima allora parliamo un attimino di morgan morgan è una ragazza che è nata nell'alta borghesia quindi ha vissuto comunque nel lusso possiamo dire ma non era d'accordo con i valori dei genitori perché i genitori erano abbastanza attaccati al denaro attaccati alle cose di lusso e lei si è voluta ribellare e infatti è andata a vivere in un posto piccolino piccolino e ha deciso di fare una vita ecologica ha fatto tanti lavori ha fatto la stilista e poi ha provato a intraprendere una carriera nel mondo del cinema comunque una carriera che poteva fruttarle qualche soldino in realtà è andata male non è riuscito a fare niente e ha ceduto un pochettino ai suoi genitori nel senso che è tornata nella villa di famiglia per decidere il suo futuro vediamo dove è andata a vivere ragazzi ed eccoci qui intanto lei ok è in abito da notte ottimo eccoci qua ragazzi e questa è la villa ebbene alla fine non trovando una sua strada ha ceduto ad una grande villa che appartiene alla sua famiglia però lei con i suoi genitori non parla da molto molto tempo in realtà ha perso tutti i contatti chissà se li ritroverà mai contatti con loro questa è la casa vista dall'esterno io l'ho presa adesso in resource ed è bellissima ho redato un pochettino anch'io dentro a poco poco veramente solo per gli animali il salotto ecco qua una bella tv con il lettore guardate che bello i divani un mobile le sedie qui qui abbiamo la musica e qui abbiamo pochi il suo cane e anche un gatto il gatto è duchessa eccolo qua chi ha seguito anche diciamo la serie precedente di the sims 3 sicuramente conosce pochi e duchessa chi invece la sta guardando ora non avrà problemi perché è una serie nuova e questo è il luogo per i nostri animali questo l'ho costruito tutto io praticamente l'ho arredato quantomeno tutto io e insomma mi sembra che abbiano un bel angolino abbiamo anche qui la vasca proprio per animali per fargli il bagno qui lei può mangiare guardate è un bel tavolino qui vabbè c'è un mobile appunto per cambiarsi un armadio qui abbiamo una cucina abbastanza chic devo dire come cucina abbiamo un microonde abbiamo anche una macchina per caffè molto carina guardate che bello anche i colori magari vieni qui tu così illuminiamo le stanze tanto lei vuole pulire casa però lei ha sempre un animo ecologico diciamo che è cresciuta molto diversamente rispetto ai genitori guardate guardate che casa che casa vabbè poi se noi andiamo su qui c'è appunto questo piccolo corridoio che divide appunto queste due porte questa porta porta appunto a la camera matrimoniale di lei guardate che bello intanto direi di ripulire subito e qui invece abbiamo appunto il bagno con una doccia molto molto chic devo dire e qui abbiamo una cameretta questa cameretta potremmo trasformarla anche in camera per bebè per bambini e qui abbiamo anche un bel computer un bel mac quindi direi che si tratta bene ma lei ragazzi ha uno spirito molto avventuroso e infatti ha intrapreso una carriera particolare l'acrobata eccola qui è ancora aspirante mimo quindi deve fare delle cose minime per adesso deve andare ad esibirsi nel parco per le mance e sperare che qualcuno la noti diciamo e in più vuole dedicarsi anche all'avventura quindi vuole partire e fare dei viaggi dei viaggi in egitto in cina in francia insomma vuole davvero viaggiare penso che la prima meta sarà comunque l'egitto perché vorrei che si dedicasse alle tomba esplorare tombe ovviamente loro rimarranno a casa con i dog sitter cat sitter eccetera quando lei andrà e guardate lei vabbè c'è questo bug perché giustamente è quasi tutto materiale personalizzato però ne vale la pena ragazzi perché è veramente veramente bello e mi piace mi piace un sacco e direi di andare a provare ad esercitarci per le mance magari vedere se funziona perché alla fine non abbiamo ingaggi come vedete quindi è l'unica cosa che possiamo fare vieni vieni a mangiare dai svegliati guardate guarda quanto è piccolino duchessa vieni duchessa vieni dai che hai un bel posto grande ah volevo anche dire che mi avete consigliato di togliere la modalità schermo intero anche se credo che voi la vedrete a schermo intero per avere più luminosità me l'ha consigliato Alessandro quindi grazie grazie mille grazie per i vostri consigli sempre utilissimi intanto lui vuole distruggere qualcosa ma tu qua hai dei giocattoli quindi prendi un giocattolo e giocaci oh lei si è svegliata ragazzi benissimo possiamo provare a viaggiare un po' che bello viaggiare così ragazzi il centro raccoglitori c'è avere tutta la città disponibile però effettivamente serve anche un computer bello potente e io tempo addietro non riuscivo a fare molto parco verde ci passerà della gente qui ma sono ancora le 5 di mattina quindi dubito onestamente magari andiamo a cucinare sarà una puntata ragazzi molto tranquilla però voglio assolutamente comunque abbiamo i bio spaghetti in realtà no no però no servicolazione frittelle vai con le frittelle voglio assolutamente che conosciate meglio Megan brava Megan brava cucina bravissima guardate spezzare le uova delle belle frittelle ci stanno tutte in più deve trovare l'amore perché il suo desiderio vitalizio è avere una grande famiglia felice quindi veramente sarà complicata la cosa ragazzi però perché no appena sono tipo le 7 possiamo andare al parco a vedere come stai tu pochi uh loro gioca uh cosa ha combinato cos'hai combinato c'è tutto sporco per terra ragazzi cosa hanno fatto vai qui fai un pisolino si c'è sporco accidenti gioca insegui aspettate possiamo pulire però se mi dice sostituisci credo che abbiano rovinato il tappeto comunque la moquette l'hanno proprio rovinata oh sembrano buone guardate che bello che è tutto bianco così molto molto bellino molto bellino lo si dice ma fa lo stesso ripulisci prendi un piatto dai ma cos'hai cos'hai perché ti blocchi qual'è il problema qual'è il problema forza mangia mangia che dobbiamo andare a trovare l'amore anche oltre che lavorare forza ripulisci riponi gli avanzi magari l'amore lo trova in egitto però sarebbe più interessante un egiziano domani è il compleanno di duchessa finalmente diventa grande ragazzi oh duchessa diventa adulta oh benissimo eccola qua che corre ecco qua duchessa che corre oh ma come giocano però sono super amici loro due sono veramente super amici ripulisci intanto fate un po' quello che volete bravi bene e io direi che è il momento di andare forse adesso ci sarà qualcuno tu però ti puoi cambiare abito acrobata mima non qui cambia abito abiti quotidiani subito brava metti via tutto fai la persona ordinata e cambiati bravissima allora forse in spiaggia c'è qualcuno sapete io proverei visita spiaggia ok oh vedo un po' di gente qui speriamo che vengano anche qui guardate che bella spiaggina però c'è qualcuno qua se è inutile stare qui proviamo ad andare al parco vediamo uh vedo qualcuno qua uh e qui c'è anche proprio un palco in cui potremo andare ad esibirci se lei cresce un pochettino con la carriera quindi speriamo ragazzi speriamo bene ecco responsabilità esibisciti per le mance migliora l'abilità di atletica allora telefono cellulare acrobata mima esibisciti forza esibisciti per le mance proviamo vediamo come fa e dobbiamo anche migliorare l'abilità di atletica ragazzi prova forza la corda ok tiro la fune intanto suona il telefono rispondi al telefono dai non si sa mai che sia un ingaggio ma dubito fortemente onestamente però ci hanno chiesto di fare i falla ragazzi però non li sa fare quindi no si ha disturbato e basta qui vediamo che cresce la sua carriera ragazzi speriamo bene dai vai ancora esibisciti ancora qui c'è un po di gente ci guarda lei ci guarda ci stiamo esibendo proprio non gliene frega niente assolutamente oh lo specchio eh si però lo fa bene eh è bravina per essere all'inizio è brava ragazzi fa per lei questo lavoro la vedo bene sapete cosa potremmo fare per migliorare l'abilità di atletica potremmo andare in cina e farle fare diciamo gli esercizi appunto per le arti marziali e credo che così aumenti anche l'abilità di atletica intanto lei deve andare in bagno lui si avvicina lui si avvicina e ci dà una mancia si ci sta guardando ragazzi il primo spettatore la ci guardano no c'è della gente ma non ci sta guardando forse questa signorina lei signorina ci dà una mancina c'è un piccolo interesse ma la mancia magari presentati dai non si sa mai ragazzi non si sa mai salve scusi scusi salve salve eh come va molto piacere vestita così poi già tratto lui benissimo speciale lei guaribile romantica eh ragazzi chiedi segno zodiacale si dai si trovano megan ha preso che javed è un inguaribile romantico come lei guarda qui si perchè lei ragazzi è anche temeraria non ve l'ho detto ma vi faccio vedere i tratti non vorrei che si facesse pipì addosso però ama la famiglia è ordinata temeraria inguaribile romantica e fortunata fortunata non direi però ragazzi ha avuto sfortuna fino adesso ti prego vai al bagno c'è un bagno pubblico qua nei dintorni non può farsi la pipì addosso adesso corri ragazzi sta malissimo vai a fare pipì corri 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 bravissima gli animali stanno benissimo vediamo se hanno distrutto qualcos'altro si hanno fatto la pipì per terra hanno distrutto tutto guardate ci stuiamo eh infatti hanno rovinato il tappeto vieni a pulire casa dai con la tua macchinina per nulla ecologica devo dire e infatti lei no pensavo avessero stato un morale negativo per la macchina invece no forza pulisci poi cambiati e facciamo il bagno al cane cambia abito abiti quotidiani pochi vieni vieni devi farti un bagno avanti guardatelo tutto contento invece il gatto rifugge questa cosa il gatto fugge non ne vuol sentir parlare di bagnetti però proveremo anche col gatto non si sa mai magari gli piace poi alla fine non si sa mai lui è bello soddisfatto oh bravo ora sei pulito noi no eh però tu si vabbè fatti il bagno qua dai ho capito che oggi non è giornata per te oh è felice è felice vuole assistere a un simfest e c'è ragione se le capitano in città ci andiamo assolutamente sì comunque ragazzi è una puntata presentativa dalla prossima il mio intento è farla andare in Egitto chissà che non incontra qualcuno ma soprattutto esploreremo delle tombe e faremo tante conoscenze tante nuove avventure tante cose belle comunque già ha conosciuto qualcuno ditemi cosa ne pensate anche lui è inguaribile romantico quindi chissà 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 magari sarà lui quello giusto non lo so vedremo beh io direi che ci possiamo fermare qua per questo episodio mettete un bel like se il video vi è piaciuto lasciate un commento iscrivetevi al canale anche al canale di facebook e a tutti i social che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti